E' un tributo per il norvegese signori, Oda, Cristian, Eiching va a vincere questa seconda tappa nel Ciro della Valle Nostra che gana, ma gli applausi sono tutti per un grandissimo Edwin Ravasi numero 10 e poi ancora Australia al terzo posto, come detto, Jack Hink Poi ha lanciato lo sprint per la quarta posizione, va a chiudere il numero 48 che è volata quella di Lorane Plus e la maglia